Ciao ragazzi sono Lorex Mecca e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi faremo se riesce Bene ragazzi eccoci qua in compagnia con Sarax Adesso lei attiverà la sua super voce Con Sarax che non so perché Sì è perfetta Bene Sarax è arrivato il momento di vedere sta caverna che è davvero strana No la è la sezione texture pack Vedi Sara No 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 non sono le tue C'è che fa vedere la texture pack della mod tranquilla Capito provo a entrare Poi io ho trovato un sacco di cose che non avevo mai visto prima su Minecraft Tipo ste foglie proviamo a entrare Guarda Un secondo sto facendo una cosa mi prendo un'armatura full Ma io l'ho trovata completa in survival questa armatura Ho fatto anche un portale del nether L'ho trovata un piccone in diamante Un bell'arco con 37 frecce Ma no ma no ma no non ti prendere salti al mattimo full ferro Sarax Sarax Sì Va bene full ferro No tando Brava Sarax No tando Ma io lo andiamo a puoi entrare sarebbe la creativa anche se sei operato proviamo esploriamo di qui stipati da me una stanza di a me in questo mondo è uscito l'1.17 si prendila prendi tutto sto morendo sarai in questo mondo uscita l'1.17 eccomi l'auto da per allestire casa il piccone l'hai preso il mio piccone ok aspetta lo colpisco con l'arco sarà guarda la svedo una stanza con qualcosa oddio scusa voglio cercare non mi sa no io non salgo perché è facile sta caverna mi ha fatto spiegare più di 8 frecce oh scusa è uscito l'1.16 guarda qua c'erano quei cosi del non si è uscito l'1.16 dove cresce l'ametista non lo rompere non lo rompere giv sarax di vendito hiron si perché ti droppa la dirt no la concrete è sempre la stessa wow bella quindi sto mondo c'è l'1.17 in pratica poi qua è vero nell'1.17 c'è un update dove in pratica ti spawnano le torce nelle caverne si guarda qua qui ti spawnano le torce nelle caverne e prendi questo torcia di caverna sarà qua a fianco sarà allora abbiamo visto qua c'è del rame no il piccolo indaia non tranquilla io grazie con rame possiamo farci un blocco possiamo farci come oh oddio non lo so è il bioma dei funghi si trova io voglio vedere se c'è il bioma dei funghi non penso perché quello si trova su un'isola dell'acqua di solito se arrivo a 9 mi voglio fare un blocco di rame però prima li metto a cuocere sti lingotti dai di uno che faccio il blocco ma come è fatto a non accorgere al tenelori si l'ho trovato l'avevo visto l'avevo visto ma non è un tempio della giungla si ma chi era sembra lo stanno mamma Sara ha litigato con Alessio si che c'è? che c'è? che c'è? ma c'è la Sara? e sei qua hai chiamato il telefono di Sara ma mamma sono Sara mi hai chiamato a me no è che ha litigato con Alessio ma lui non voleva giocare con me no perché Sara doveva giocare con Ale e si è messo lui alla fine si hanno fatto pace ma Sara non voleva mamma l'ho fatta ok no Sara mi vado a prendere altra ametista un po' di shard ametis non lo vado se ti armi no perché era lontano ma slot aspetta ho preso un po' di am ricordati che non si possono addomesticare Iaxlo scusa mi sto seguendo seguo il ferro hai provato io il piccolo? no Iaxlo non seguono il ferro non seguo più non seguo il ferro Iaxlo e lo so guardami guarda dove sei? guard다면mi guarda più per questo non mi fanno in inferiore ma cavoli su iso aspetta Sara che guardo ma lo fanno male e te che sai di? no iaxlo no non lo so si si vabbè però non devi infatti lei sarax un attimo sarax andiamo a casa tra l'altro è fighissima guarda ora che bella la nostra casetta non aspetta non è vero le foglie o delle cose delle cose per prendere le foglie non parlare troppo così eh che diventi volgare ok io vado a cuocio vediamo se cuociono ok io torno nella caverna vanno a prendermi un po di carbone perché l'avevo visto ok sto prendendo il carbone sarà ma non penso che sia tanto sarà ma mi sa che mamma si arrabbierà visto che quando tu se tu se ti trova che che tu non stai giocando con alessia sarax sta facendo video solo per velocità tra poco dovrà andare sarax aspetta un attimo sarax voglio vede no voglio farti vedere se cuocio vieni a vedere sarax ti posso dire una cosa e tieni presente nel primo episodio aveva annunciato io avevo creato sta caverna con la mod del 1.17 sarax bene ragazzi io spero che sto video vi sia piaciuto da lorenzo però qui ci possiamo fare una vanilla 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 dell'1.17 vanilla dell'1.17 eh sì però dobbiamo fare e io ho creato la caverna io ho creato la vanilla quella la che abbiamo cancellato che quando non lo avevamo il copp il copp il copp Sara dai due questa è la cassa lì della 1.17 allora quando sta trovando sto video? 12 minuti vediamo se c'è un tocco di velluto no perchè no 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 io ho messo quel micelio e ho piazzato io quel warden ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao ciao